Diciamo che la realizzazione dell'ufficio casa potrebbe essere la soluzione a alcuni di questi problemi. Alcuni numeri sono destabilizzanti perché si parla di oltre 350 sfratti esecutivi nel 2012, di questi 330 già effettuati e questo è solamente il 2012. Si prevede un incremento di circa 20% solamente nella zona valdaria. La realizzazione e la nascita di Arezzo Casa è la volontà di fare un'agenzia casa. L'agenzia casa dovrebbe prevedere un incontro che la domanda è offerta non solo pubblica ma anche dai privati e quella di oggi è l'incontro di proposizione e di proposta che andrà fatta dall'ufficio l'ordine del comune di Arezzo e dall'assessore Caremani e quanto riguarda la realizzazione di tale ente. Certo questa andrà valutata, vagliata ma soprattutto bisognerà avere il benestare della regione toscana. L'idea è quella di realizzare incontri e situazioni che ci permettano di dare risposta ai cittadini perché dopo il lavoro la casa è il secondo bisogno sociale più sentito e dove c'è necessità di lavorare e in questo momento abbiamo realizzato che lo stare da soli non porta a niente. L'unità è quella del valdano per sempre e la volontà di mettersi insieme per risolvere i problemi ai propri cittadini.